Già le vediamo le velature, sono il segno di un lieve cambiamento che arriverà nelle prossime ore. Un moderato fronte attraverserà la regione nella notte, ci sarà un po' di più nuvolosità appunto nelle ore notturne e di primo mattino, ma quello che cambia è soprattutto il vento, tornerà a esserci un po' di bora domani mattina, un po' come ieri, bora moderata però appunto con velocità media intorno ai 10-15 nodi prima della partenza e raffiche sui 20-25 nodi. La bora poi è data in lieve incremento nelle ore centrali, intorno all'ora di pranzo, quindi intorno alle ore 13, avremo probabilmente una media di 20 nodi e raffiche che potrebbero raggiungere anche i 30 nodi. Le condizioni però sono di una bora abbastanza distesa, quindi una prevalenza quasi di levante, quindi una bora che sarà meno indecisa e meno saltellante rispetto a quella dell'anno scorso. Grazie. Grazie.